Ciao ragazze, oggi sono qui per alcune comunicazioni Innanzitutto con un po' di nostalgia dei vecchi tempi vi volevo far vedere una cosa non so se si riesce a vedere comunque questa è una letterina di Babbo Natale cioè per Babbo Natale scritta ovviamente da mia mamma non so se si riesce a leggere vedete Babbo Natale grazie di questi doni doni che mi porti Martina ecco vedete questa è la mia capacità di scrivere e in questo foglio in cui c'è un bellissimo disegno con la Madonna Gesù Bambino notare Gesù Bambino che ha le gambe che gli partono dalla testa poveretto non ha un busto poi qua c'è Giuseppe l'albero di Natale qua c'è l'angelo qua ci sono tutti i cuori e qua dove è? qua c'è l'elenco delle cose che io ho dettato a mia mamma caro Babbo Natale vorrei la passettina e i trucchi veri veri poi vabbè i Lego i Lego piccoli i Lego di Worldism e poi tutta una serie di cose però la passettina è al primo posto i trucchi veri io qua non vi dico una bugia dietro c'è il foglio che ho scritto la data e non so se si riesce se si riuscirà mai a vedersi si si vede 15 settembre del 92 data vedete? quindi perché questi fogli qua erano i fogli dell'ufficio di mia mamma che lei portava a casa quando c'era la carta in più e io ci facevo disegni sopra quindi non dico bugie questo è veramente un foglio del 92 io nel 92 avevo 4 anni 4 anni e mezzo quindi questo è stato semplicemente una cosa che ho voluto condividere con voi allora parliamo di cose serie allora è work in progress una collaborazione una collaborazione con The Cake85 Francesca che tra le altre cose saluto ciao Franci e niente praticamente questa collaborazione consiste appunto nel riproporre dei trucchi dei make up visti in televisione nelle pubblicità dei giornali al cinema insomma quello che vediamo quello che ci piace lo riproduciamo e praticamente appunto questa collaborazione sarà anche appunto una possibilità a voi che comunque ci sostenete di interagire con noi nel senso che se voi avete comunque un make up che vi piace da proporci che avete visto che comunque vorreste vorreste appunto riprodurre e magari non sapete come fare o semplicemente avete voglia di chiedere a noi come lo faremo noi noi lo lo possiamo fare e quindi siamo qua con questa questa idea che a me piace tantissimo quindi niente io vi consiglio appunto di iscrivervi al mio canale così che riuscirete a seguire i miei video ma anche al canale di Francesca appunto per far sì di di avere appunto di di seguire un percorso tra me e lei e di rimanere sempre aggiornati sui nostri video niente io spero che questa idea vi sia piaciuta commentate nel 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 mio box insomma qui qui sotto qui sotto commentate fatemi sapere cosa cosa le pensate poi tra pochissimo daremo via a questa collaborazione vi mando un grosso bacio vi chiedo scusa se in questi giorni sono stata un po' assente perché comunque non sono stata bene non sono stata bene poi ho iniziato a lavorare al comune quindi non non ho avuto tempo ho avuto un esame e è stata una settimana alquanto delirante io spero che mi perdoniate e niente vi lascio con l'attesa del prossimo video un bacio grande ciao ciao